Chiusura del sottopasso per la pulizia delle caditoie stradali l'11 ed il 12 settembre. E' quanto disposto da un'ordinanza del settore tecnico del comune di Battipaglia. Il sottopasso ferroviario sarà chiuso dalle ore 22 del giorno 11 alle ore 6 del 12 e dalle 22 del giorno 12 alle 5 del giorno 13. Alla base della decisione la richiesta avanzata dalla società Alba, esecutrice dei lavori. Grazie per la visione!